Comunque oggi non parlo per un giorno di Juve ma parlo della Champions League africana. La CAF Champions League, come sapete origini tunisine, comunque quindi posso dire comunque che è un torneo che ho sempre seguito con piacere, non c'erano squadre tunisine ma è stata una finale molto piacevole da vedere, molto bella, tra l'Ozamalek e l'Alali, due squadre del Cairo, pensate, derby del Cairo in finale, questa è stata una partita, pensate proprio la pesantezza del risultato in un derby come quello del Cairo, tra l'altro Zamalek e l'Alali, due squadre comunque molto titolate non solo in Egitto ma anche in Africa, totalmente in Africa, ebbene la vittoria è andata all'Alali, l'Alali che vince il suo nono trofeo, la partita ha visto un gran gol di Solesia, dopo 5 minuti il gol più veloce della storia dell'Alali, ma un altro gran bel gol, quello di Shikabela, ho dovuto segnarmeli perché non me li ricordo, non so come si pronunciano quindi chiedo scusa se ho fatto pronunce sbagliate, ha portato lo Zamalek sull'1-1, poi la partita è andata via in maniera equilibrata, ho visto anche un paio di occasioni per lo Zamalek ma un paio di occasioni anche per l'Alali, tra l'altro un rigore dubbio chiesto dallo Zamalek, per me ha fatto bene l'abito lasciare andare ma era al limite, quindi se avesse comunque fischiato non ci sarebbe stato nulla di così strano. La partita è andata avanti con una certa tranquillità finché all'86esimo Magdi Kafshka ha trovato un gol strepitoso di controbalzo, palla nell'angolino e vittoria con questa rete dell'Alali, diciamo che la Zamalek da lì non è riuscito più a rialzarsi, la botta è stata pesantissima. Migliori in campo Magdi Kafshka che ha fatto gol e assist e ha deciso la fine della partita per l'Alali che andrà a giocarsi il mondiale per club, l'Alali è una delle squadre, vi ricordate? Sicuramente i milanisti se lo ricordano perché si giocavano il posto come club più titolato del mondo e l'Alali che con questo successo è il 25esimo titolo internazionale ufficiale della squadra africana togliendo le coppe arabe però comunque è il 19esimo perché comunque hanno vinto una coppa dei campioni afrosiatica che è una coppa intercontinentale, si giocava tra la campione della CAF Champions League e il campione della FC Champions League, poi 9 coppe dei campioni CAF Champions League quindi il massimo torneo africano, poi 4 coppe delle coppe africane, una coppa delle confederazioni CAF, 6 supercoppe CAF e poi le coppe arabe che però non sono conteggiate nel computo UEFA quindi la Champions League araba, la coppa delle coppe araba e la supercoppa araba. Quindi direi che questa squadra merita tutto il rispetto di questo mondo ma lo merita anche lo Zamalek perché secondo me ha fatto una grandissima partita, ha fatto una Grand Champions ma anche una grandissima una grandissima Champions League e credo che veramente sia stata una bella soddisfazione per la Lali ma è una terribile botta per lo Zamalek che resta comunque una squadra che ha vinto 5 il Champions League. Quindi voi pensate da 8-6 a 9-5 come cambia la percezione dei trofei. Quindi complimenti alla Lali, complimenti a Angalo Zamalek comunque per l'ottima Champions spero che vi sia piaciuto questo video e niente ragazzi a domani per il post. Benevento video. Ciao a tutti.